Un trionfo di specialità gastronomiche e prodotti tipici isolani, contrassegnati dalla migliore qualità, a testimonianza degli straordinari livelli produttivi raggiunti dal Made in Sicily. A Palermo tornano le Domeniche d'Eccellenza, iniziativa promossa dall'Assessorato Regionale d'Agricoltura e Foreste e patrocinata dal Comune. Proprio come l'anno scorso, la Kermesse si terrà in pieno centro cittadino nel tratto di Via Libertà, compreso tra Piazza Croce e Via Archimede, una sorta di villaggio virtuale urbano dove saranno allestiti stand e che esporranno soltanto specialità di nicchia, con processi di lavorazione che vanno dall'artigianale all'industriale e che testimoniano sia la ricchezza del territorio e delle sue risorse naturali, sia il patrimonio storico-culturale della Sicilia. Secondo l'Assessore Regionale d'Agricoltura, Giovanni Lavia, infatti, è solo puntando sull'eccellenza che si può contrastare l'avanzata nelle piazze nazionali ed estere di merci che provengono da altri continenti, sicuramente competitive sotto il profilo economico, ma prive della qualità nostrana. Anche quest'anno la rassegna vedrà la partecipazione delle maggiori aziende di prodotti enogastronomici siciliani, oltre 60, che esporranno, oltre a vini, formaggi, salumi tipici e prodotti dell'ortofrutta, che saranno offerti gratuitamente ai partecipanti, anche le linee top dell'offerta commerciale. Domenica d'eccellenza anche quest'anno sarà una vetrina enologica di tutto rispetto con l'iniziativa Calici d'Oro, che vedrà protagonisti vini siciliani, che da molti anni ormai fanno incetta di premi nazionali e internazionali. Il miglior vino presentato nei giorni della manifestazione riceverà un riconoscimento.